Ciao a tutti, sono Lady Barbara. Vi informo che ho terminato il mio ultimo lavoro discografico. La presentazione sarà il 19 dicembre al Salone Comunale di Aosta alle ore 18. Lo potete trovare anche su tutti i social network, iTunes, Spotify e anche nelle mie serate. Quindi vi aspetto il 19 dicembre, Salone Comunale di Aosta alle ore 18. Un bacio dalle DB. Ciao a tutti.